Ivan Mikovic, grande vittoria qui al Palapanini di Modena, forse della miglior lube della stagione in campionato. Sì, soprattutto nella prima fase della partita. Volevamo questi tre punti, sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, sapevamo di questo campo abbastanza caldo, ma soprattutto ci siamo detti di giocare punto per punto. Come si è visto, anche la squadra di Modena ha fatto una grandissima partita ad altissimo livello. Sono molto contento che specialmente nei momenti di difficoltà siamo stati bravi a reagire e soprattutto nell'ultimo set, nell'ultima parte, quando abbiamo perso 3-4 punti di fila, non abbiamo mollato e siamo rimasti fino alla fine, eppure ci siamo riusciti a ritornare e a vincere. Ivan, mancava una vittoria contro una grande squadra in campionato, è arrivata nell'occasione più importante. Sicuramente mancava un buon gioco, io vorrei partire da questo. Tutti quanti stasera hanno fatto il suo nel miglior modo possibile e sì, ci voleva un po' di stima, un po' di autostima soprattutto per ciascuno di noi. Possiamo dire di vedere in questo momento il miglior Ivan di questa stagione? Ah, ho parlato con Lucchetta prima, ma ha detto che purtroppo in battuta non ha fatto nessun ace, allora mi sa che c'è un po' di spazio da migliorare ancora. Quanto vale questa vittoria Ivan? Anche dal punto di vista della classifica, che a questo punto il primo posto è nel mirino, no? Va bene, la classifica dice che in questo momento con questi tre punti di questa vittoria siamo primi in classifica. Vediamo, ci saranno altre tre partite da non sottovalutare. Sì, vale molto, vale molto, ma noi comunque guardiamo avanti, guardiamo sempre il prossimo avversario. Grazie. Grazie.